Ma come sono facili da preparare i biscotti Rates Homemade fatti in casa, tanto per intenderci. Li prepariamo insieme questi crackers, così dolci salati particolari. Ci servono 280 g di farina, 15 g di lievito per torte salate, 20 g di zucchero, 2 g di sale fino, 90 g di burro, 30 ml di olio, 160 g di acqua fredda. Questa è la preparazione. Setacciare la farina con il lievito, impastare con il sale, lo zucchero e il burro freddo tagliato a pezzettini. Mi raccomando che il burro sia davvero buono. Unire l'olio e l'acqua poco alla volta. L'impasto dovrà essere consistente. Avvolgere nella pellicola e mettere in frigorifero per una trentina di minuti. Stendere l'impasto tra due fogli di carta forno a 3 mm di spessore e formare i rizzi con un taglio a tortellini rotondo e fare dei forellini con la forchetta. Potrebbero sembrare all'apparenza tanti tappi di bottiglia. Cuocere a 200 gradi per 10 minuti. Appena tolti dal forno e ancora caldi, spennellare con burro fuso e spolverare con sale fino. Per avere una maggiore friabilità e sapidità, spennellate con burro fuso e spolverate di sale fino due volte.